Non vedo l'ora, se dipendere i confini, la sicurezza e la dignità del mio Paese mi comporta un processo, magari per assurdo una condanna, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona in questo Paese. Penso che tanti italiani siano pronti a fare questo tratto di strada, o me, mi vogliono portare in tribunale, lo facciano, per quello che riguarda Di Maio, piccolo uomo, tutto qua. Ma io non ho fatto, lo ho fatto rapidissimo, e lo dimostreremo con le carte, con l'ok di tutto il governo. Se poi qualcuno per convenienza, per non litigare col PD, oggi dice che Salvini è brutto, è cattivo, è un sequestratore, è un razzista, è un fascista, deve essere processato, deve rispondere alla sua coscienza. A me spiace solo che ci siano giudici e inquirenti che usano denaro pubblico per inchieste surreali. Quindi, detto questo, non vi do l'ora di andare a portare le mie ragioni, prima in Senato e poi, se nel caso, anche in tribunale. E guardare negli occhi quei giudici e capire se chi ha fatto il ministro può rischiare 15 anni di carcere per aver fatto il suo lavoro. Penso che veramente sia una vergogna senza precedenti. Non sono l'unico. Guardando come viene trattato Trump negli Stati Uniti o in Etania o in Israele, penso che ci sia qualcuno che fa utilizzo politico della magistratura, pochi. Io penso che il 99% della magistratura italiana sia sana, obiettiva, libera e indipendente. Qualcuno usa il suo ruolo per fare politica. E quindi, ritengo veramente surreale il processo al ministro degli interni che ha bloccato gli sbarchi e l'immigrazione clandestina. Però, andiamo avanti. Grazie a voi. Ragazzi, buon lavoro.